Giovanni Spedicati, candidato per la rivoluzione civile in Groia al Senato, ha illustrato il suo programma elettorale incentrando tutto sul lavoro, ecologia e democrazia. Queste tre parole, ecologia, lavoro e democrazia, sinteticamente è questo, l'ecologia perché sono un ecologista e per me l'ecologia è anche un modo proprio di concepire la vita, un discorso che va a prendere tutto l'ecosistema e che prende anche l'organizzazione proprio sociale, quindi parliamo di ecologia del lavoro, ecologia della mente, ecologia domestica. Democrazia, perché democrazia? Quando parlo di democrazia lì sul manifesto non ci ho messo partecipata perché era troppo lungo ma io intendo il vero significato etimologico della parola democrazia che è quella di demoscrazia, potere del popolo.